ve lo immaginate lo zio zeller a las vegas paura e delirio per tutti gli altri signori signori buongiorno nella notte gli ottavi di finale dell'in season tournament due partite ho scelto di fare la reaction su pelicans kings perché sono due squadre su cui ancora non è stata fatta e siccome da una parte ci sono il tossico e bisteccone dall'altra vodka sabonis e la volpe direi di andare a commentare questa partita senza sapere il risultato senza sapere come è andata si parte signori è in season tournament questo bellissimo torneo c'è da una parte bisteccone ci sono i pelicans al gran completo signori perché ci sono bisteccone il tossico il parquet orribile beh dai è godibile questo parquet godibile devo dire inizia fortissimo sacramento 5 a 0 subito è rientrato keegan murray è rientrato cj mccallum è rientrato tre i marfi insomma le due squadre praticamente al completo praticamente al completo qui tripla di keegan murray e poi se ne va così torna ancora altra tripla di keegan murray 13 a 4 per sack town speriamo di aver beccato una partita decente tripla di arv jones due squadre che insomma lottano lì nelle nelle nei bassi livelli della zona playoff della western conference almeno per il momento sacramento che dopo il terzo posto dell'anno scorso punta forte a questa a questa coppa di che sky chiama nba cup ma che in realtà si chiama in season tournament non capisco perché continuino a chiamarla nba cup qua rimbalzo di aldo biscardi palla alzata per malik monk ancora trail eyes per malik monk tripla da casa sua sacramento avanti di 13 ora di 12 ancora malik monk sixth man of the year mio mia prediction si mette in moto il tossico attenzione c'è lo zio zeller con i google glasses vedete i google glasses dello zio col mirino gli permettono di recuperare un pallone altra palla recuperata attenzione bisteccone con le scarpe rosa e lascia lì per tre murphy che schiaccia ritornano in partita un pochettino i pelicans col canestro di naji marshall meno 7 ancora però di aaron fox miglior giocatore della western conference nella scorsa settimana mi pare di ricordare poi tripla del tossico che riporta i pelicans a meno 8 altra tripla di cosse alvarado meno 5 pelicans che tornano in partita e se dio vuole abbiamo una partita bel canestro di tre murphy che poi pazzesca sequenza pelicans che porta la squadra di willy green al pareggio qua altro recupero stanno perdendo tantissimi palloni kings tripla di alvarado sorpasso pelicans bisteccone allarga bella circolazione di palla per cj mccallum il polmone di questa squadra non a caso che brutta questa orribile dall'altra parte ancora il consegnato di sabonis per malik monk gioco a due sabonis duello lituano sotto le plance sabonis fa spallate con valanciunas e li troveremo probabilmente nel preolimpico entrambi qua tripla di cj mccallum siamo a metà del secondo periodo con la tripla di tre murphy i pelicans mettono il nasino avanti sul più 9 qua rimbalzo di sabonis assist di sabonis canestro di aldo biscardi e si va ancora avanti con la partita in equilibrio raddoppio su ingram spezza ancora cj mccallum assist per tre murphy e insomma tre murphy è l'ennesimo giocatore che è mancato nell'inizio di stagione di questi pelicans e adesso sono al completo e ricordo che fin tanto che erano al completo l'anno scorso sono stati primi nella western conference per cui vediamo questi pelicans che vanno sul più 11 cosa cazzo fa sabonis sabonis si ferma e valanciunas ne approfitta ancora fox ma che cazzo arbi signor arbitro signor arbitro mi sembrava una certa qual violazione o poi magari mi sbaglierò e c'è lo skyhook di jonas i jonas brothers incredibile ragazzi skyhook valanciunas ancora più 13 pelicans schiacciata di vodka sabonis ancora fox spinge sull'acceleratore altra palla quasi persa di fox poi sabonis ancora rimbalzo e segna il vantaggio però dei pelicans si è assestato sul sui 10 punti circa qua ancora valanciunas schiaccia poi fox prova con malik monk e c'è il buzzer beater alla fine del primo tempo più 8 per i pelicans a fine primo tempo qua tap in di valanciunas ancora il tossico palleggio palleggio attacca keegan murray euro step tiro alla noviz che ha fatto tutto in questo possesso brandon ingram un po casuale ma va bene così qua un blocco diciamo abbastanza granitico di sabonis su si geme callum ma sempre avanti i pelicans ancora bisteccone per herb jones che mette la tripla più 15 addirittura pelicans ancora schiacciata di sabonis non fa fallo giustamente valanciunas ancora bisteccone bisteccone ed è il primo canestro che vedo di bisteccone che qua fa un close out due close out orripilanti di zion williamson mamma mia due close out da mani nei capelli per zion williamson che però qua prende rimbalzo offensivo schiaccia e torna indietro con la sua solita anda con le spalle basse guardatelo che fisicaccio bisteccone poi fox più 15 ancora per i pelicans però diventa più 13 si va da bisteccone che scarica per cj mccallum bocca alla finta aldo biscardi il cj arriva al ferro dall'altra parte keegan murray il sophomore dei sacramento kings prova a mettere una pezza a una partita che i kings stanno cercando di riacchiappare mentre c'è di nuovo lo zio con i google glasses in campo signori lo zio zeller con i google glasses qua non riesce a stoppare sabonis qua ancora blocco enciclopedico di cody zeller lo zio per cj mccallum ancora più 10 per i pelicans stoppata di sabonis su ingram ancora ci tengono comunque le squadre ragazzi vedo un'intensità molto più alta di una normale partita di regular season vedo un'intensità anche perché si giocano las vegas di fatto ve lo immaginate lo zio zeller a las vegas paura e delirio per tutti gli altri signori paura e delirio cody zeller a las vegas ma vediamo come va a finire questa partita perché qua c'è un'ennesima tripla dei sacramento kings che tornano a meno 4 a un minuto dalla fine del terzo periodo e qua ci sono chiari segnali degli dei del basket brandon ingram con un canestro quanto meno curioso e cos'è alvarado per il più 9 fox accelera come al solito la difesa di zion williamson è diciamo rivedibile diciamo rivedibile anche qua close out uscita raddoppio pessimo di zion williamson che si fa saltare da fox più 7 pelicans e la tripla in step back di cj mccallum il padre reputativo di tutti gli altri il buon cj qua malik monk tenta di mettere una pezza ancora malik monk con la tripla del meno 5 sacramento nove minuti e mezzo alla fine ancora step back rimbalzo offensivo di erv jones si addormentano i kings si addormenta anche il tifoso che penso sia anche una persona importante perché aveva il beggettino però va bene si stava addormentando quindi più 6 attenzione canestro bellissimo di brandon ingram mi faccia keegan murray qua doppio blocco per monk liberissimo sabonis sotto canestro la partita rimane in equilibrio 5 minuti e mezzo alla fine ancora ingram con la gran palla per jonas valanciunas che va ancora di semi gancio destro poi ingram che vede erv jones che scarica per tre i murphy e la tripla che probabilmente scrive la parola fine a questa partita vediamo se ingram assist non voluto però poi va rimbalzo ingram subisce fallo mette i liberi più 13 per i pelicans che diventa più 15 3 20 alla fine e qua ci vuole un miracolo per sack town tra l'altro giocava in casa sacramento quindi corsari per il momento i pelicans a sacramento light the beam un'altra volta non oggi tripla di monk meno 10 raddoppio ancora su ingram poi la palla per valanciunas che da solo sotto il ferro finisce qui direi siamo a più 12 anche se qua ecco c'è la stoppata di erv jones su malik monk ancora erv jones mamma mia mette il punto esclamativo mette il punto esclamativo sulla partita ancora erv jones qua zion assist valanciunas schiaccia finisce qui i new orleans pelicans sono la prima squadra che io almeno perché non so il risultato di boston indiana che arriva a giocarsi la final four di las vegas per questo in season tournament andiamo a vedere il box score solo 10 punti 6 rimbalzi 6 assist 3 rubate per ciccio zion 30 di brandon ingram 23 di erv jones 18 e 11 di uno straripante valanciunas 6 falli in 29 minuti duello vinto con il connazionale sabonis 17 di mccallum e 16 di trey murphy dall'altra parte tripla doppia di sabonis quindi ha perso la partita ma ha giocato una ottima partita 26 13 e 10 14 keegan murray 30 di di aaron fox 12 di aldo biscardi e 21 di malik monk rotazioni veramente all'osso a 7 giocatori praticamente per il sacramento kings che perdono quindi scontro diretto ottavi di finale dell'in season tournament torniamo in full screen per il commento finale allora i pelicans si qualificano per la final four di las vegas da vedere com'è andata indiana boston devo ancora capire devo ancora vedere i risultati per cui insomma adesso mi guarderò la partita so che la trasmettono su sky me la gusterò ovviamente mentre lavoro perché non ho graus alternative e domani le altre due partite spicca sans lakers dovrebbero esserci tutti tranne bradley bill per cui vediamo perché i lakers secondo me ci puntano ci puntano a questo in season tournament mi aspettavo e mi aspetterei insomma una finale tra lakers e celtics vediamo perché ovviamente a scontro diretto tutto può succedere signori finisce qui la reaction e noi ci vediamo nei prossimi giorni spererei anche live ogni tanto ma purtroppo il lavoro mi sta portando via la vita e quindi se volete che io sia più presente donatemi non lo so qualche milionata di euro così smetto di lavorare e sono tutto vostro se c'è qualche benefattore sono qui sono qui ragazzi non vi preoccupate ovviamente scherzo ma anche no quindi ragazzi datevi da fare ci vediamo nei prossimi giorni un saluto il franz ciao